Come le dipendenze da sostanze genera una perdita di controllo, un'astinenza e quindi nervosismo, agitazione se uno prova a smettere e bisogno impellente di ritornare per esempio online per controllare le chat piuttosto che le mail o tutto quello che avviene nei social. Sono in vertiginoso aumento i casi da dipendenza da tecnologia principalmente da smartphone. I dati che riguardano appunto queste casistiche soprattutto minorenni ma anche adulti sono del CERD di Arezzo. 400 utenti, 40 di loro hanno chiesto aiuto per le dipendenze da tecnologie, di questi 15 sono dipendenti da videogiochi quasi tutti minorenni. Nella nostra utenza abbiamo diciamo due grandi categorie, cioè gli adolescenti ci arrivano soprattutto per dipendenza da videogiochi online, mentre gli adulti, quindi le persone oltre i 30 anni, diciamo ci arrivano soprattutto per dipendenza da gioco online e da sesso virtuale. Per quanto riguarda gli adolescenti è importante che i genitori, oltre che controllare il numero di ore magari per cui il figlio sta al cellulare piuttosto che al videogioco, è soprattutto l'aspetto dell'isolamento, cioè quanto la vita virtuale prende il sopravvento su quella reale. Quindi l'indice in realtà non è tanto le ore che il ragazzo sta per esempio al cellulare, perché ormai è diventato un appendice di noi stessi, adulti e ragazzi, ma quanto per esempio comincia a preferire lo stare al videogioco, lo stare comunque in camera sua, al cellulare, al computer, piuttosto che uscire con gli amici, andare a fare sport, andare a scuola. Quindi l'elemento da tenere in considerazione è l'isolamento sociale, questo è il campanello d'allarme. 13 coloro che sono alle prese con la dipendenza da cybersex, 8 da scommessi online e 2 da trading e shopping online. Ora penso ai genitori che sono preoccupati magari per un figlio che sta molto ai videogiochi o al cellulare, è di non pensare che la soluzione è nel togliere tutto, nel togliere la rete, tolgo il cellulare, perché in realtà se si parla di una dipendenza per esempio da videogiochi o da cellulare, è soltanto un sintomo di una sofferenza che ha il ragazzo, più spesso una sofferenza legata alla crescita, perché l'adolescenza è periodo di ansia, lo è stato per tutti noi, lo è anche per i nostri figli, e quindi diciamo che il cellulare e il videogioco diventa una sorta di rifugio per il ragazzo, ma la soluzione non è togliere tutto, si tratta invece di capire qual è la sofferenza e il disagio, quali sono le ansie della crescita che poi si esprimono in questo modo, quindi quello che direi non togliete assolutamente tutto perché si rischia, anzi se c'è una dipendenza di creare uno stato di disagio ulteriore, quindi si tratta a caso mai di, io dico di cominciare a parlare sicuramente col figlio, a far, magari rispetto a un videogioco, a farsi vedere anche come si gioca, e magari cominciare a invitare, non so, gli amici, se sono amici del quartiere, quelli con cui gioca online, cominciare a invitarli a casa, e quindi comunque non sottovalutare sicuramente.